L'UGL ha partecipato in maniera importante ai tavoli del MISE e lì ha ricevuto assicurazioni. Intanto si è stata trovata anche la quadra rispetto a chi acquisiva quel ramo d'azienda, comunque l'importante sito industriale. Siamo molto amareggiati dal percorso che abbiamo dovuto subire rispetto all'Exonwell che in maniera veramente subdola ha portato via tutto quello che c'era qui in Abruzzo e che costituiva una parte molto importante. Azienda, ovviamente anche lì leader, ma che aveva un fatturato importante, non era un'azienda in crisi ma che ha deciso di delocalizzare e portare tutto in Slovacchia. La politica ha fatto male più che poco perché farsi bocciare la richiesta di un utilizzo interiore cassa integrazione è cosa grave fatta dalla politica. Il gennaio sarà questo tavolo in sede regionale dove dobbiamo discutere del piano industriale del piano Baumark per l'assunzione di 160 dipendenti. È un piano complesso e speriamo che la collaborazione dei lavoratori, dell'apporto dell'UGL e del tutto il Ministero di poter arrivare all'ottimizzazione del piano stesso e allargare la forza di 160 dipendenti.